Da un lato le strategie di ottimizzazione messe a punto da Comune di Asiago e Etra, dall'altro la crescente attenzione da parte dei cittadini. E' questo il mix vincente che ha reso possibile una netta riduzione dei costi del servizio rifiuti nel Comune dell'Altopiano per questo 2016. Grazie alla razionalizzazione voluta dal Comune riusciamo ad avere un abbattimento di circa il 10% della tariffa e grazie alla riduzione dei costi e alle sinergie fatte all'interno dell'azienda un ulteriore 3,5%. Possiamo dire quindi che un 13,5-14% di riduzione della tariffa qui nel Comune di Asiago. Una ventina di euro all'anno sarà quanto mediamente risparmieranno i residenti, ma il beneficio dell'operazione condotta da Etra e Comune è anche di tipo ambientale. Siamo riusciti anche ad aumentare la quota di differenziata in questo territorio che ricordiamo aveva dei numeri estremamente bassi. Qualche anno fa avevamo un 25-27% di differenziata, oggi grazie a questo nuovo servizio di omogenizzazione e di standardizzazione abbiamo un incremento della differenziata che oggi sfiora il 50%. Ormai consolidata la presenza dei press container, ad Asiago entro l'anno arriverà anche un'importante novità. L'ecocentro che noi realizziamo anche in accordo con il Comune di Roana ci darà la possibilità di fornire un servizio in più alle aziende e anche ai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti, quelli maggiormente ingombranti. Ma al contempo stiamo veramente assistendo anche ad un grande passo in avanti per quanto riguarda la quota differenziata. Qui voglio dirlo che nel momento in cui noi aumentiamo la percentuale di raccolta differenziata agevoliamo ancora di più la riduzione del costo del rifiuto urbano.